Il mare come fonte di opportunità di lavoro e sviluppo è il tema dell'Info Day, programmi europei a sostegno della politica marittima e della pesca, tenutosi questa mattina a Palazzo San Giacomo. Alla presenza di Daniela Villani, delegata al mare del Comune di Napoli, con il supporto del Centro Europe Direct e con l'intervento di Riccardo Rigillo, direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole, si è discusso delle modalità di accesso ai fondi europei dedicati all'economia blu e alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti ittici e dell'acquacoltura. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris, che ha annunciato lo sblocco di 334 milioni di euro destinati al piano strategico triennale della città metropolitana, di cui una fetta significativa sarà investita in progetti per l'ambiente e il mare. Molte misure che finanziano fino all'80% del progetto, io ritengo che sia importante in una città che sconta dei gap occupazionali, finalmente dare con il mare un'economia, un'economia sostenibile e che faccia appunto del mare la sua forza trainante. I fondi saranno disponibili per investire in progetti utili al rilancio del territorio, dall'imprenditoria privata alle associazioni, dalle persone fisiche alle realtà locali, attraverso sei priorità. La prima riguarda l'attività di pesca sostenibile, quindi una serie di misure che aiutano i pescatori e chi lavora sul mare. La priorità 2 riguarda la sostenibilità dell'acquacoltura, quindi sostegna l'acquacoltura sostenibile. La priorità 3 riguarda l'attuazione della politica comune della pesca in senso più stretto e quindi comprende sia la raccolta dei dati, la ricerca finalizzata alla gestione della risorsa, sia i controlli che sono quelli che vengono fatti in mare. La priorità 4 riguarda lo sviluppo locale, viene fatto attraverso quelli che sono i gruppi di azione della pesca locale. La priorità 5 è quella più strettamente imprenditoriale, riguarda la trasformazione e la commercializzazione, più anche la comunicazione al consumatore. E infine la priorità 6 è quella più innovativa perché riguarda la politica marittima integrata e quindi le misure, da un lato io semplifico ovviamente la pianificazione dello spazio marittimo per coordinare tutte le attività economiche sul mare, dall'altro il sistema integrato di controllo europeo, il cosiddetto CISE, dove tutte le informazioni che provengono dal mare vengono condivise in un unico sistema di consapevolezza.